Tre grattacieli di vetro, un parco pubblico e due blocchi di edifici residenziali. Questa è City Life, il quartiere ultramoderno di Milano che vede la firma di tre grandi architetti del panorama internazionale. Arata Isocai, Daniel Libenskin e Zahadid. Uno spazio di grande qualità architettonica. Questo lo capiamo anche soprattutto dai grandi nomi che hanno contribuito a crearlo. Sono però spesso considerati spazi molto commerciali e che forse non vanno in completo accordo con quello che è il tessuto urbano della città di Milano. Dove prima, dall'esposizione universale del 1906, veniva ospitata la vecchia fiera di Milano, oggi sorge un distretto con abitazioni di lusso e inquilini famosi, ma soprattutto con l'area piedonale più grande della città e tra le più vaste in Europa. Grandi spazi verdi che si intrecciano con le strutture moderne del centro commerciale e delle installazioni artistiche.